ciao fragoline nuovo video allora un tag su facebook che su facebook escono tantissimi quiz da fare c'era un quiz un po particolare come leggete dal titolo in poche parole si chiama che tipo di canzone sei c'erano se non sbaglio dieci domande io l'ho scritta tutte infatti questo dove praticamente c'erano le domande e le quattro risposte da dare allora detto ma quasi quasi me lo scrivo e lo faccio come tag perché era praticamente un sondaggio qualcosa del genere quelli che si fanno su facebook allora dato che ho pensato questa cosa qua ho detto ma quasi quasi lo trasformo in un tag e faccio queste queste domande l'ultima domanda ovviamente su facebook ti appareva ti appariva la domanda c'è il non la domanda la risposta di quello che eri in poche parole dato che qui l'ho praticamente messo come tag l'ultima canzone c'è l'ultima canzone l'ultimo l'ultima domanda l'ho praticamente inventata io per fare un questo tag un po diverso un po particolare anzi sono due mi sembra prima di iniziare questo tag vi ricordo iscrivervi al canale attivare la campanellina lasciarmi un like e seguirmi su instagram allora iniziamo se volete potete rispondere sotto qua nei commenti se no se volete fate anche voi questo tag prima domanda canti sotto la doccia sono quattro risposte per cui dovete scegliere una di queste quattro sempre mai qualche volta due volte a settimana allora io rispondo qualche volta perché non canto quasi mai sotto la doccia per cui ogni tanto qualche volta per cui voi dovete rispondere una di queste quattro risposte che io vi do ovviamente per chi fa i video e anche per chi risponde sotto nei commenti perché secondo me questo è bello anche perché può essere un gioco che può che possiamo giocare praticamente tutti in poche parole seconda domanda se fossi un utensile da cucina quale saresti cucchiaio di legno apriscatole frullatore o o mattarello allora se io fossi un utensile da cucina questo è difficile io sceglierei frullatore perché a me piace il frullatore e allora io sceglierei questo per cui il frullatore terza quali sono le tue caramelle preferite allora le risposte ovviamente le ho trovate su facebook per cui non so cioè non le ho scelte io voglio precisare questa cosa qua comunque quali sono le tue caramelle preferite allora balsamiche il cioccolato salate o tutte quelle elencate non so perché c'era scritto così ma io ho ho preso la domanda e le risposte di quello che c'era scritto su facebook allora le mie caramelle preferite sono praticamente tutte quelle elencate io risponderei così non so voi però che poi non ho capito perché hanno hanno messo la risposta come salate comunque vabbè io leggo quello che ha messo facebook poi altra domanda quale tipi di salsa preferisci piccante agrodolce dolci o non mi piacciono le salse allora io la salsa che preferisco è agrodolce vado un po' più veloce sennò poi sto video dura troppo qual è la vacanza da sogno che ti piacerebbe fare? safari in tenda in africa? caccia all'aurora boreale in islanda? scalare il magu picchiù in peru? non so come si legge però vabbè viaggio sul treno super sonico in giappone? allora la mia risposta è viaggio sul treno super sonico in giappone perché mi piacerebbe andare in giappone per cui la mia risposta è quella cioè andare in vacanza da sogno mi piacerebbe andare in giappone col treno anche se è lontano però vabbè poi se fossi al supermercato e sentiresti una canzone che ti piace ti metteresti a ballare in pubblico? allora io no perché non sono cioè sono molto timida per cui non mi metterai a ballare al supermercato in un pubblico per cui no la mia risposta è no di che umore sei quando ti svegli? irritabile? confusa? felice? nessuna di queste? allora quando mi sveglio sono felice poi vabbè dipende dalla giornata se sono arrabbiata se dipende tutto per cui io dico felice poi qual è il tuo strumento musicale preferito? allora balafon armonica lure o cucchiai? allora le tre risposte non so diciamo che strumenti sono non ho in mente adesso che strumenti sono per cui preferirei dire cucchiai cioè forse i cucchiai sono belli facili da usare e buh io direi cucchiai l'ultima anzi penultima domanda qual è il peso di danza che preferisci? scusa scusate ma ho sbagliato a leggere volevo dire qual è il passo di danza che preferisci? perché ho detto peso e non lo so comunque piruletta hula hop scossa elettrica o polca? a me piace l'ula hop quando ero piccolo lo facevo per cui io preferisco l'ula hop l'ultima canzone sì l'ultima canzone ancora sono in pizzo con sta canzone allora l'ultima domanda che ovviamente ho inventato io è che tipo di canzone sono? allora questa è la domanda in cui c'era su facebook ma ti usciva proprio la risposta quando tu selezionavi le le quattro risposte dato che qua non puoi farlo giustamente io ho scelto la canzone che che mi piace di più che forse sono io è benji fete dove e quando non so se avete presente comunque la mia canzone è benji e fede dove e quando per il momento io ho scelto questa qua perché non sapevo che canzone dato che è un tag un po' particolare un tag un po' diverso diciamo che poi l'ultimo l'ultima è taga 5 amici io ho messo 5 amici ma possono essere anche 3 per cui se volete fare questo tag io taggo Betty82 ricette risate in pochi minuti Ilaria94 SaraMagic15 e se vuole farlo anche Lorenzo a miei mi sarei diciamo felice queste sono 5 persone che taggo e ripeto se volete fare anche voi che non ho tagato fatelo perché secondo me è un tag un po' particolare un tag bello che non so neanche se qualche youtuber prende questi tag su facebook e poi inventa per modo di dire come tag perché ovviamente sono dei non mi viene la parola comunque credo che avete presente quei sondaggi che vi escono su facebook quando voi rispondete a queste 4 risposte e poi alla fine avete un risultato e vi dicono loro cioè vi dice facebook in poche parole che cosa che cosa siete ad esempio che animali siete allora vi esce che ne so il serpente non l'ho inventato io l'unica domanda risposta tra virgolette è il tag e appunto l'ultima domanda che vi ho detto quale canzone siete se vi piace questa tipologia di video se vi piacciono questi video questi tag che potrei prendere su facebook fatemelo sapere che secondo me è anche carino per diciamo comunicare e farlo insieme rispondere insieme praticamente questo è quello che ho pensato io per cui fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video scrivetemelo qua sotto nei commenti mi raccomando aspetto i tag di queste persone che ho tagato e anche quelli che non ho tagato se lo fate tagatemi nel video sia su instagram che su youtube perché secondo me è anche carino e provate anche voi inventare qualche tag qualcosa di bello qualcosa di particolare secondo me è bello poi non lo so dipende poi se vi piace questo genere di video ne farò altri se no niente sarà solo questi tre tag che praticamente ho fatto in questa settimana penso che il video vi è piaciuto noi ci vediamo al prossimo video e io vi saluto qua ciao ciao